Perché l'hai fatto? Umberto dimmi perché l'hai fatto? No, no, Umberto, tozzi, no, non farmi causa, anche perché, poi probabilmente sarai anche d'accordo con me, io c'ho in Italia, all'estero un altro discorso, battisti, fossati, poi ci sei tu. Allora, un paio di cose potrei dirle, urrà alla marinara, per te bella prigioniera, io quella canzone non l'ho mai capita, non è anche tanto tozzi Masini, ma Masini non è a tuo livello, è bravo, però non è a tuo livello, però immagino che ti l'abbia fatto proprio perché c'era una grossa amicizia fra di voi. No, quello che ti devo rimproverare non è colpa tua, e cioè è che quando uno scrive una canzone come Ti amo, che ha il successo che ha, ti amo, poi l'anno dopo fa tu, sentiamo come ne esce.